Come anticipato nei giorni scorsi, è stato pubblicato il bando per l'accessione attraverso asta pubblica delle quote di Dolomite Ambiente detenute dalla provincia di Belluno. Sono 364.400 le azioni in mano a Palazzo Piloni, pari al 92,4% del valore della società che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti e che è proprietaria dell'impianto del Maserot, dove si trattano secco e umido. Il loro prezzo a base d'asta è stato fissato in 2.309.750 euro. Il valore, si legge nel bando, è stato determinato sulla base della perizia predisposta dallo studio Shortino di Belluno e da Praxi SPA di Torino. Possono partecipare al bando imprese individuali, società, consorzi, ma anche altri organismi come banche, fondazioni, enti pubblici e privati, che siano naturalmente in possesso dei requisiti e richiesti. Il termine per presentare le offerte è stato fissato alle 12 del prossimo 10 ottobre. Ora, che succederà? Sono diversi gli scenari possibili. Da un lato, alcuni sindaci, capitanati da quello di Belluno, Oscar e Pellegrin, non chiudono la porta ad un possibile acquisto di Dolomite Ambiente da parte della Nova Holding, con capofila Bellunum e composta anche da Valpe, Ecomont e Ponte Servizi, che si occuperà della raccolta dei rifiuti per tutta la provincia, nonostante le quattro società abbiano deciso di non procedere all'acquisto diretto di Dolomite Ambiente, come deliberato due anni fa dall'Assemblea dei Sindaci. L'altro attore in campo è Bing SP, che detiene attualmente il restante 7,6% di Dolomite Ambiente. Come previsto dallo Statuto, la società a totale partecipazione pubblica presiduta da Tillo e Sommavilla potrebbe esercitare il diritto di prelazione, acquisendo le quote messe in vendita dalla provincia al prezzo offerto dai soggetti che presenteranno l'offerta migliore o, in caso di mancate offerte, al prezzo a base d'asta più un euro. Faremo tutta l'analisi patrimoniale economica della società per valutare se effettuare l'esercizio del nostro diritto di prelazione e anche la luce dei necessari investimenti per renderla più competitiva e per capire anche nell'ambito del piano provinciale dei rifiuti se questa operazione possa dare via a una chiusura definitiva delle problematiche che mi sembra siano ancora aperte.